Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella nuovissima carriera della Tocca della Fiorentina Benvenuti nel quinto episodio Nella scorsa puntata abbiamo giocato contro Napoli E ragazzi, prima che cominci il video ho perso di nuovo i file della carriera E non lo so, FIFA mi fa perdere i file a caso Io quando esco dalla carriera, io li salvo Ma poi me li non mi sta bene così Noi andiamo a giocare contro il primo altro calcio Cerchiamo a portare 3 punti E questa è la formazione Questa è la formazione La Fiorentina funziona l'avanzo Devendo pure di Firenze Blauvic, Blauvic, Blauvic Funziona l'arrivo, Blauvic, Blauvic Subito, va a gol Devendo pure di Firenze La sembra Busan Blauvic 1-0, ma che giocatore Rosso Busan 1-0, ma in tensione Palla, che arriva a Torreira L'avanzo a Guguagliano E c'è Vare Castro Rimini Non ce l'avano Non ce l'avano Divento l'esco Fegge Roberto, avanza Spidi, 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 spidi I giocatori devono entrare tutti in difesa Spidi, spidi, spidi E vabbè Con l'alto Piazza La Juve segna proprio morale Dunedì a Bonucci La cercata di Bonucci Finitina, avanza Torreira Mi da in conce RICUPERA Torreira, mamma mia Torreira Ho fatto la doccia Viraghi, viraghi, viraghi Dai, viragino Viragino Spazzola via Perché lui è una roccia Sottile, sottile, il primo pallone di questo match Blauvic, è in mente la vallace Sottile, sottile, sottile Diventa vici Vida smala Vanzimo il rosario di viola Vida smala, vada smala, vada smala Rimessa Io mi hai rimesso all'ora In mezzo Sottile Grandissimo Sottile Ok Ma assolutamente Per la Champions sarà un po' impossibile A meno la confera ci servono punti e quindi ci vuole per farlo diventare difensore perché è una 37 settimane e ce ne vogliono tante e va bene va bene così andiamo a giocare contro la salernitana tre punti importanti questa è la formazione che è da sfidare la salernitana inizio tende a scelto e 4 1 2 simi con castanos ribere colibali bradley moudin gaiolo sandberg aia obi e berec e questa sottomazione ci andiamo in campo e dai con i violi di file non sbaglio bene e più rinforzante e spera come si dispera attenzione battè basta se ci non sapeva male vai vai male attenzione obi obi let che avanza si 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 provano a battere attenzione batte nozzi se ci contro il libero Sì, vediamo Messione Fire Cosa state diventando Fire Sì, siamo più da male Sì, siamo avanti Sì, siamo trovati alcuni liberi Sì, siamo male Male, finalmente 1-0 Segno per l'antina La cura della di Firenze 1-0 Male Di un segno Un intero che ci passa Dai, è così Cominciai a rupire le palle Avevo che vedo l'altro secondo, male Trovavo laudizia 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 Trovare male, trovare qui Ma che si può tirare 2-0 Ancora un male Cacciolatore 2-0 2-0 Vado Vado, finno Mi stiamo proprio stracciando Vado, vado Vado, vado Vado, vado Vado Sofiana 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 Ok Vai a Ribery Iagosti Samberg Contro Flavic La palla arriva Non arriva a andare a battere liberi, 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 liberi sezione, Zavich, non ho qua Ricky, Ricky, Ricky Cervo che caccia d'angolo sezione Ricky, quella numero 8 Ricky, sezione, top col tiro 3-0 3-0, tot, tripletta di male mamma mia, male si porterà, il pallone Disney, male male, male, male male, proprio male liberi liberi, Frank, Frank Frank, Frank e ci si vede ad ammazzio da destra Duncan Duncan attenzione Dürich attenzione tutti i suoi devono fare la grande corsa male, devi fare la grande corsa male, male tanto Dürich attenzione le cose fanno se la vuole dare a Brandi attenzione benassi benassi siamo pronti per affrontare il suo suolo eccoci qua eccoci qua c'è il giacomo scamat con un bel quarto d'utrungo scamat tra ore orsi mudur kirika sherry che consigli l'opera serrata pelusa e garcia questo sono le relazioni e la città mi canta d'arri viola ok e sta siamo al sch ketler con una missa mi sono escamata come una pentera onza non lo so non lo so però di questo non smacca un po' di insola non me la bacio ci pio ci pio male caglione 1-1 giose santa maria caglione pareggia la partita non me la caglione santa maria prova 1 rimonta incredibile 2-1 blauvić la punta di diamante pure quella di furia 2-1 per la curazione la santa maria la santa maria attenzione 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 la palla attenzione 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 partita guardate sicuro tiglio con me santa maria alvaro ero sparo in casa alvaro per cui si Padrizzola Blauvic 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 Attenzione Andrenkovic Attenzione sottile Può chiudere la partita Possono chiuderla Attenzione Benassi Benassi Andremo al nono posto Quindi potremo già gareggiare Per un posto in conference Speriamo bene La Coppa Italia E' il nostro biglietto di andata Ma l'abbiamo persa Quindi Dobbiamo assolutamente Buona avventura E quindi Andiamo a giocare l'ultima partita del video Contro l'Empoli Il derby Che si giocherà in casa nostra Quindi Contro Blauvic Vincere con l'Empoli Renkovic In mezzo Cutrone 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 Guarda Goldellex Patrik Cutrone Cutrone Non so 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 Cutrone 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.